Fin dai tempi di Dante i letterati italiani si sono interrogati su quale potesse essere la lingua nazionale, che evidentemente non esisteva, visto che non esisteva una nazione e ciascuno parlava il proprio dialetto. Nel 1861, con l'Unità d'Italia però, questo problema cessa di essere una questione di letterati che vogliono creare una lingua per scrivere opere d'arte e diventa un urgentissimo problema politico. Famosissima la frase di Massimo D'Azzeglio, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Ecco, fare gli italiani passa anche per creare una lingua, o meglio, rendere la lingua nazionale qualcosa di veramente condiviso e parlato da tutti, cosa che assolutamente non è nel 1861. Serve una lingua d'uso, comune. Ecco, questa lingua d'uso è un termine importante in linguistica, non è più, non serve più una lingua letteraria, serve una lingua che si possa effettivamente utilizzare, impiegare in tantissimi ambiti e la lingua italiana, di questo erano consapevoli già i predecessori di alcuni letterati precedenti, in particolare gli illuministi del caffè si erano posti in maniera particolarmente critica a questo problema, però la lingua lettera italiana, l'italiano è sostanzialmente una lingua letteraria, che quindi mancava di termini relativi a tantissime discipline pratiche, la legge, la burocrazia, anche i saperi tecnici, tutto questo non era mai interessato particolarmente i letterati e di conseguenza non c'era una lingua veramente d'uso. A ciò si aggiunge il fatto che l'analfabetismo è diffusissimo. Nel 1861, secondo il primo censimento, risultava che il 78% degli italiani erano analfabeti. Però intendiamoci su cosa vuol dire analfabeti. Vuol dire essere proprio totalmente incapaci di leggere e scrivere. In realtà di questo 22% di alfabetizzati, molti sapevano firmare, sapevano leggere lo stampatello maiuscolo con difficoltà e basta. Sicuramente non sapevano padroneggiare l'italiano e non sapevano affrontare un testo complesso. Oggi si direbbe che sono analfabeti funzionali. Ecco, non abbiamo dati precisi di quanti fossero a padroneggiare davvero la lingua italiana, ma si pensa che al di là della Toscana, dove in qualche modo l'italiano coincide col vernacolo, si pensa che fossero intorno all'1%, forse anche una cosa in meno, a parlare effettivamente, a sapere veramente utilizzare l'italiano. Quindi pochissimi. E come dicevamo, l'italiano è una lingua soprattutto letteraria e non ha termini adatti a contesti pratici e non si evolve in modo naturale. Il riferimento è sempre quello degli antichi. In fondo, l'origine della lingua italiana, nella scelta di Bembo di vedere come scrivevano i grandi letterati del Trecento, aveva lasciato tracce fortissime sull'italiano. Infine, dicevamo, la gran parte degli italiani usa il dialetto come unica lingua, anzi i dialetti, perché ciascuno al suo cambiano anche di luogo in luogo in maniera considerevole. Ma questo è importante, anche coloro che conoscono bene la lingua nazionale, in realtà la conoscono come seconda lingua, potremmo dire. Nei contesti normali utilizza il dialetto. E questa è la situazione. Lo Stato, dicevamo, lo Stato unitario si pone programmaticamente l'obiettivo di risolvere questo problema e decide di affrontare questo problema, questa questione fondamentalmente con l'insegnamento, con la scolarizzazione. Però la scelta a molte è da fare quale italiano? E con la scelta dello Stato unitario è di seguire la tesi di Manzoni, che del resto è presidente della commissione parlamentare per la lingua. E l'idea di Manzoni è che l'italiano debba essere il fiorentino contemporaneo, quindi della sua epoca, di metà ottocento, parlato però dai ceti colti. Quindi una lingua viva, dunque, se è viva, può cambiare e può rispondere agli stimoli del contesto, dell'evolversi della società, ma fortemente imparentata con quella che era la lingua letteraria, che era esemplata, come dicevamo, sui fiorentini del Trecento. Di qui deriva il fatto che, se uno legge i testi di questo periodo, spesso trova espressioni che oggi ci paiono un po' strane. Ad esempio, il papà o il padre diventa regolarmente il babbo, come si dice in Toscana e non altrove, e per inciso nemmeno nell'italiano di registro stilistico elevato. Però, visto che il modello è quello, visto che in Toscana si dice babbo, il termine a utilizzare deve essere quello. Ecco, l'idea è di estendere, questa è un'opera meritoria e sicuramente ha degli effetti molto positivi, di estendere gradualmente l'obbligo scolastico. Estendere l'obbligo scolastico, va detto, non è soltanto imporre la legge, ma anche mettere in piedi una costosa e complessa macchina. Fino al 1859 in Italia fondamentalmente non esisteva l'istruzione pubblica. Se uno voleva che il suo figlio fosse istruito, poteva, o se era molto ricco prendere un precettore in casa, oppure, scelta più frequente anche negli strati sociali elevati, affidarlo a qualche ordine religioso che ne curasse l'istruzione. In origine erano i gesuiti avere questo incarico, nell'Ottocento erano altri ordini, tipo i salesiani, i barnabiti e così via. Comunque un'istruzione, diciamo, in qualche modo privata, per singoli o per gruppi, ma non pubblica. Lo Stato si deve organizzare, appunto, e spesso non è facile. Non è facile perché con un analfabetismo così diffuso e così pochi che veramente posseggono la lingua italiana è difficile trovare maestri. A volte gli stessi maestri sono molto poco colti e conoscono molto male la lingua italiana. Qui racconto un aneddoto della mia bisnonna, che vive in uno sperduto paesino del Piemonte, una frazione. In realtà lei era la maestra elementare della frazione, ma lei aveva fatto la quarta elementare. Però non si poteva fare altrimenti, era l'unica sufficientemente colta disponibile e quindi diventò un po' maestra. Ove possibile il governo fece mandare in tutta Italia comunque maestri toscani che potessero così diffondere la loro lingua. Però, appunto, ove possibile, non sempre era facile perché, insomma, la Toscana è una regione e ce ne sono altre 19, beh, all'epoca non erano 19, anzi non c'erano neanche le regioni per essere precisi all'epoca, però, insomma, è una piccola parte dell'Italia. Ho qui citato quelli che sono i passi fondamentali della legislazione scolastica prima della prima guerra mondiale, che è un po' il momento in cui ci fermeremo. Ecco, l'atto di nascita dell'istruzione obbligatoria italiana è la legge Casati nel 1859. Questo vuol dire che non è ancora una legge dello Stato italiano, ma è ancora una legge sabauda, che tuttavia appena compiuta l'unità viene estesa a tutto il territorio nazionale e questa prevede due anni di scuola obbligatoria per tutti. La scuola elementare era composta a due bieni, ecco il primo, secondo questa legge, diciamo, doveva essere composta a due bieni, il primo diventava obbligatorio e questa organizzazione però era affidata ai comuni. Quindi lo Stato la impone, ma l'organizzazione è ancora difficile. Questo fa sì che non sia veramente così capillare. In particolare un grosso problema è che la legge Casati impone l'obbligo scolastico, ma non prevede nessuna sanzione per chi la disattende, quindi uno poteva non mandare a scuola il proprio figlio e nessuna autorità poteva penalizzarlo in qualche modo. Non molti anni dopo, nel 1877, una maggiore organizzazione viene data a legge Coppino. Sarà molto importante perché innanzitutto innalza l'obbligo scolastico fino ai nove anni compiuti, quindi per tre anni. L'istruzione è sempre affidata ai comuni, ma finalmente ai comuni, specie ai più poveri, viene data qualche fondo, pochi in realtà, per organizzare l'istruzione e vengono introdotte delle sanzioni. In realtà i fondi non arrivano esattamente con la legge Coppino, ma l'anno dopo però il concetto è quello. Si capisce che se si vuole istruire il popolo servono dei fondi, i bimbi servono dei fondi. Importantissima anche la legge Orlando nel 1904 che innalza l'obbligo scolastico sino ai 12 anni, elargisce di nuovo fondi ai comuni, ma, questo è molto importante, obbliga i comuni stessi a organizzare almeno i primi quattro anni in ogni singolo comune. E poi i comuni oltre i quattromila abitanti dovevano organizzare anche il corso diretto corso popolare, cioè la quinta e la sesta. Questa è una riforma molto importante perché abbiamo detto che con la legge Coppino c'era una multa, una sanzione, una multa per chi non mandava il figlio a scuola, però molti ancora preferivano farlo. Anche perché molti comuni appunto erano sprovvisti di scuole. E obiettivamente andare a scuola in un altro comune in assenza di mezzi di trasporto adeguati era ben difficile. Invece finalmente i vari comuni, anche le frazioni, cominciano a essere dotate di scuole. È un obbligo e i comuni devono ottemperare, ricevono anche dei finanziamenti. Effettivamente nella pratica l'obbligo fino ai 12 anni non è veramente così rispettato. Specialmente nei comuni piccoli resta difficile che i bambini frequentino il corso popolare. Però possiamo dire che nel Novecento diventa assolutamente normale arrivare almeno fino in quarta e quindi la gran parte della popolazione via via si viene alfabetizzata. Aggiungo che oltre a questi interventi sui bambini lo Stato cerca anche di istruire gli adulti. Ad esempio tutti coloro che devono prestare il servizio di leva, vengono quindi i militari, hanno sei analfabeti, hanno un corso di alfabetizzazione di base e imparano quantomeno a leggere, come si diceva, leggere, scrivere e far di conto in maniera piuttosto elementare. Questo risultato, questo sforzo ha dei risultati discreti perché effettivamente alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quindi in una sessantina d'anni, l'analfabetismo è sceso al 25%. Tenendo conto che ci sono comunque gli anziani, è un successo ragguardevole. Resta però il fatto che l'istruzione superiore, quindi quella che veramente permette di possedere la lingua italiana, è ferma al 4%. Non possiamo dire che l'analfabetismo sia l'evasione scolastica, l'illusione scolastica, siano sconfitte, ma comunque ottengono buoni risultati. Però, in realtà, non è solo l'istruzione a creare l'italiano. Infatti, la grande spinta, quella determinante, verso una vera unità linguistica è la nascita di una società sempre più interconnessa. Cosa vuol dire questo? Che, visto che l'Italia comincia a diventare veramente un paese unito, per vari motivi che adesso andremo a vedere, gli abitanti, gli italiani, sentono effettivamente la necessità di usare una lingua comune che vada oltre il dialetto. E quindi molti la imparano, perché se una cosa serve, si impara. Se non serve, si cerca di evitarla. Comunque, se la si impara, la si dimentica subito. Invece, visto che si crea l'Italia, piano piano si crea anche l'italiano. Questa è la teoria portata avanti da questo signore che ho messo in foto, che è un po' il fondatore della glottologia e quindi lo studio, diciamo, della lingua scientifico moderna in Italia, quantomeno, grazie a Dio Isaia Ascoli. Vedete, 1829-1907. Un grandissimo linguista e lui appunto riteneva, e tra l'altro con una politica esplicita come il modello manzognano, scritta sul primo numero dell'archivio glottologico italiano, rivista da lui fondata, lui riteneva che la lingua non si potesse imporre dall'alto. Questa, teniamo conto che è proprio l'idea che oggi guida gli studiatori della lingua. Imporre dall'alto una lingua è sempre fallimentare. La lingua è un fenomeno vivo che sfugge al controllo. Come si fa allora a creare una lingua nazionale? Beh, questa scaturisce naturalmente se c'è una società civile che ne avverte il bisogno, che è veramente unita e il cui livello culturale è sufficientemente alto. E ne avverte il bisogno se ci sono continui scampi. Quindi l'idea di Ascoli era che si dovesse cercare di andare in questa direzione, favorire la nascita e la crescita di questa società civile e così sarebbe nata veramente una lingua comune. Per inciso, sicuramente lo sforzo della scolarizzazione ebbe un ruolo nell'inalzare la sensibilità della società civile. Però la lingua italiana effettivamente non è nata sul modello di Manzoni che tentò di essere imposto ma nacque in effetti in maniera più spontanea dalla creazione di una società nazionale. E perché nasce? Beh, nasce perché ci sono molte più occasioni di scrivere, di leggere e di parlare italiano. Per esempio i mass media. Dopo la seconda guerra, tra le due guerre si diffonderanno la radio e il cinema. Per adesso soprattutto i giornali o i fogli informativi. In effetti nel periodo subito dopo l'unità d'Italia comincia a nascere molti dei giornali che ancora oggi leggiamo. Tendenzialmente sono giornali di una città che poi gradualmente si espandono, in certi casi falliscono, in certi casi invece si espandono sul territorio nazionale. Qui ho messo qualche data. Nel 1867 nasce la Gazzetta Piemontese, che oggi è la stampa. Nel 1867 il Corriere della Sera e negli stessi anni anche la Nazione, il giornale di Firenze, 1859, il resto del Carrino al Bologna, il secolo XIX a Genova, il Messaggero a Roma e così via. Ho citato anche l'Avanti. L'Avanti, 1896, è il giornale del Partito Socialista, perché nel frattempo gli operai, in realtà non solo, soprattutto gli operai, ma alcune a cui idee arrivano anche i braccianti, quindi nel mondo agricolo, si stanno organizzando in partiti politici e oltre ai giornali, come l'Avanti, creano volantini, opuscoli per informare gli operai delle nuove idee. Queste idee circolano, tra l'altro gli operai stanno facendo delle lotte sindacali per avere più tempo libero, quindi più tempo per leggere. E leggono, leggono con fatica prima, poi sempre con più facilità, questi quotidiani, questi giornali, questi opuscoli, che però sono da leggere in italiano, è qualcosa che interessa e quindi viene letto. Poi l'Italia è libera dei vincoli doganali, che limitavano moltissimo i commerci tra regioni prima dell'unità, e così i commerci su scala nazionale aumentano, e se uno deve andare a vendere in un'altra regione ha bisogno di farsi capire dai suoi potenziali acquirenti. La classe operai, come diciamo, si consolida, ha più tempo libero, è anche generalmente un'istruzione più elevata, anche perché nelle città normalmente il fenomeno dell'illusione dell'obbligo di studio è più limitato, non fosse altro per il fatto che raggiungere le scuole è molto più facile. La burocrazia, lo stato sabaudo è molto burocratizzato, più di altri stati prioritari, e quindi la burocrazia, cioè quindi le comunicazioni dello Stato che arrivano ai cittadini devono essere elette, e ciascuno si cerca di imparare a leggere, è in lingua, appunto la lingua italiana la burocrazia. E poi la gente si sposta, la gente si sposta sempre di più, si sposta perché c'erano migrazioni, migrazioni sia interne sia all'estero. Ma quando gli italiani vanno all'estero, si trovano tra italiani, ma non sono tutti al loro paese, e allora hanno bisogno di imparare una lingua, la lingua italiana. La lingua italiana per comunicare tra italiani all'estero, e poi quando tornano a casa, intanto l'hanno imparata. In più, se devi scrivere la lettera a casa, non puoi scrivere in dialetto, perché il dialetto non ha una forma scritta, e la scrivi in italiano. E chi la riceve a casa avrà bisogno, inizialmente, di farsela leggere, in italiano, di nuovo, e piano piano cercherà di impararla, se possibile, per riuscire a comunicare con i cari lontani. E l'immigrazione interna è ancora più evidente, no? In Italia, alcuni imparano il dialetto della zona di destinazione, però se tanti si mesclano insieme, allora la lingua comune deve essere l'italiana. E dov'è tra l'altro che tanti si mesclano? Con servizio di leva. Gli stati preunitari, a parte lo stato sabaudo, non avevano tendenzialmente il servizio di leva, avevano degli eserciti professionisti. Invece, con lo stato postunitario, i giovani, non tutti in realtà, perché ci sono troppi giovani all'epoca per essere prelevati tutti e mandati tutti a fare il soldato, però alcuni dei giovani, estratti a sorte, devono prestare servizio militare di norma in luoghi lontani dal loro paese di origine. E qui si incontrano con giovani di tutte le regioni e devono parlare tra di loro, devono ascoltare gli ordini e tutto questo in italiano, quindi lo imparano. Ecco, si sta creando una vera società civile appunto e di conseguenza inevitabilmente il bisogno di una lingua comune che non può che essere, l'italiano. Abbiamo detto l'italiano e qui facciamo una chiosa. È una lingua viva, ma noi ancora oggi capiamo subito, se ci pensiamo, se sentiamo parlare qualcuno, da che regione viene, no? Io penso che nessuno abbia il dubbio che io sia piemontese, se sentiamo parlare un siciliano lo riconosciamo subito, un fiorentino che aspira le cilio lo riconosciamo e così via. Questo vale per tutte le regioni italiane, no? Alcune sono magari accenti più marcati, altre meno, ma tutte ce le abbiamo. Questa è l'intonazione. Ecco, in realtà non si crea l'italiano, l'italiano standard che in realtà non esiste, è il cosiddetto italiano standard, ma tanti italiani regionali, cioè quelle che i linguisti chiamano varietà diatopiche, cioè che cambiano a seconda del topos, cioè del luogo. E questi italiani effettivamente nell'ottocento erano molto più marcati di oggi, perché pensiamo a persone che hanno come lingua madre il dialetto e poi devono sovrapporre l'italiano. Lo fanno evidentemente con continue interferenze con il loro dialetto, che un po' somiglia all'italiano, ma è diverso. E quindi si distinguono, beh, innanzitutto per l'intonazione, questa è la cosa più evidente, subito lo percepiamo, no? Quello che noi chiamiamo l'accento, tecnicamente si chiama intonazione. Ma anche il lessico e le forme idiomatiche. Beh, il lessico, ci sono dei termini che si usano soltanto in alcune regioni e in altre no. Questo anche perché l'Italia, oltre a avere vari dialetti, va detto che ha delle aree dialettali in qualche modo omogenee, la Toscana, i dialetti galloitalici, nel nord-ovest, poi il nord-est è leggermente differenziato, poi i dialetti propriamente italici, il siciliano, il sardo, sono diversi. E comunque ci sono dei termini che sono propri di alcune zone. Alcuni cambiano di poco e altri sono proprio termini completamente diversi. Ad esempio, a nord si dice anguria e lo stesso frutto sotto l'appennino si chiama cocomero. Simpaticissime come si chiamano le gomme da masticare, cicres, chewing gum, questo in realtà è dopo, viene molto dopo l'ottocento perché nascono poi nel novecento. Però questi termini effettivamente ci sono e permettono e distinguono i vari italiani regionali. Poi forme idiomatiche, noi piemontesi per dire, diciamo, solo più, c'è solo più un pennarello, ecco, fuori dal Piemonte non lo dice nessuno e ciascuna regione ha le sue particolarità. Ci sono poi anche differenze di morfologia e sintassi, ci sono alcuni verbi che sono transitivi o intransitivi, tipo scendere, far scendere qualcuno o scendere qualcuno nell'italiano regionale di un luogo o dell'altro. Evidentemente poi man mano aumenta il livello di cultura, ci sia, specialmente la sintassi ha un modello di riferimento costante, mentre il lessico ha diverse variabili. Oppure anche pensiamo a usi prevalenti, tipo il passato prossimo al nord e il passato remoto al sud. Quindi esistono tanti italiani regionali, una realtà che prima non esisteva perché l'italiano è una lingua letteraria, scritta, e quindi gli italiani regionali di fatto non esistevano. Quando l'italiano diventa una lingua reale, allora nascono gli italiani regionali. Un ultimo cenno brevissimo a lingua letteraria, perché ovviamente oltre ad essere una lingua d'uso, l'italiano continua a essere una lingua letteraria. E anche la lingua letteraria diventa molto più varia rispetto a prima. Sul modello del giornalismo, e anche perché il pubblico si è ampliato, prima pochissimi, e poi pochissimi erano molto dotti, leggevano i libri in italiano, adesso ci sono molti, potremmo dire, semicolti, che però vogliono leggere. Vogliono leggere anche romanzi, non solo i giornali. E allora la prosa diventa più semplice, più agile, cioè meno subordinate, più chiara. In certi casi anche diventa un po' poco raffinata. Aumenta la letteratura di consumo. Comunque ha un ruolo importante nella diffusione dell'italiano, non sminioniamola troppo, anche se magari oggi queste opere sono dimenticate. In realtà questo continua una tendenza che era già dei romantici. Già Manzoni diceva, bisogna, e non solo lui in realtà, tutto il movimento romantico, diceva, bisogna rendere le nostre opere comprensibili a un pubblico sempre più vasto. E così anche in poesia. In poesia però c'è una grande sperimentazione. Alcuni autori, tipo Cartucci, fanno un recupero classicheggiante, altri vanno verso un ambito più prosaico. Comunque aumentano notevolmente le possibilità. Finalmente l'italiano sta diventando davvero una lingua viva.